Il prezzo della chimica è il titolo dell'inchiesta sui pericoli provocati nell'uomo e nell'ambiente dallo sviluppo dell'industria chimica. Al termine TG2 stanotte, informiamo che il previsto concerto sinfonico diretto da André Prévin andrà in onda sabato 22 settembre alle ore 13 e 15 sulla rete 2. Sulla rete 1 stiamo trasmettendo la settima puntata dello sceneggiato Capitani e il re. Alle 21 e 35 andrà in onda la tredicesima ed ultima puntata del programma L'occhio che uccide, piccole follie con Marty Feldman. Alle 22 la domenica sportiva. Seguirà prossimamente programmi per sette sere. Al termine il telegiornale. Bauri in onda lo spettacolo Festival Bar. Sulla rete 1 trasmettiamo fra poco la seconda puntata dello sceneggiato Paura sul mondo, liberamente tratto dal romanzo di Corrado Alvaro L'uomo è forte. Seguirà alle 21 e 45 la terza puntata del programma inchiesta La farina e i discorsi e la farina. Viaggio nella campagna italiana. Alle 22 e 45 trasmetteremo il telefilm Un Ristorante Tranquillo della serie Dove Corrigio. Il telegiornale concluderà la serata. Bauri in onda Gulliver. Terza pagina del Tg2. Per il ciclo dedicato al regista Don Siegel, Bauri in onda colori il film Contratto per Uccidere. Vi ricordiamo che la terza puntata dello sceneggiato Martin Eden andrà in onda domenica prossima, 9 dicembre, alle ore 20 e 40, sempre sulla rete 1.